Un lavoro straordinario, devo dire, che ricalca un pochino, anche se romanzato chiaramente, i tempi che stiamo vivendo, quindi la grande crisi della deindustrializzazione, però tocchi argomenti di grande attualità, come appunto la questione Francia e Germania, ma anche un pezzo di storia, io non voglio parlare di questione meridionale, ma parli del tricolore Giacobino. Sì, è un tentativo di descrivere i primi vent'anni di questo secolo in Italia e parzialmente comunque nel mondo occidentale attraverso una vicenda, per qualche verso metaforica, quella di un'azienda importante per il Paese che si è consumata in questo ventennio ed è all'Italia. L'Italia è lo sfondo su cui poi si muovono dei personaggi, ovviamente personaggi di finzione, ma che rappresentano anche essi in qualche modo l'evoluzione del maschile e del femminile, del rapporto tra maschile e femminile all'interno di questo contesto. E poi, per quanto riguarda lo specifico del nostro Paese, una vicenda politica caratterizzata dallo scontro fra queste due grandi personalità che sono intuibili nella narrazione, il professore e il cavaliere, che caratterizzano la vicenda politica italiana per circa un ventennio. Ci sono evidenti elementi di riflessione sul declino industriale, perché la vicenda all'Italia è fondamentalmente, come dicevo, una metafora. Quello che è successo in quel caso in realtà si è replicato in tanti altri casi, che siano grandi aziende pubbliche, ma spesso anche grandi aziende private. Vittime, nella lettura romanzata di questo racconto, vittime un po' anche del sentimento degli italiani, che a tutto ciò che è grande lo considerano di scarso interesse, tutto ciò che non è comprensibile nell'ambito del proprio interesse circoscritto e personale, viene ritenuto qualcosa che non vale la pena di difendere. Alessandro Sanzoni, Paolo Rubino, Lo Spirito del Tempo, cosa intende secondo te, anche dall'alto della tua esperienza, sei anche editore, oltre che giornalista professionista, per Lo Spirito del Tempo, Paolo Rubino, in questo lavoro editoriale? Allora, questo è un romanzo e naturalmente innanzitutto c'è una storia che viene raccontata. Noi abbiamo organizzato questa presentazione e questo seminario anche per i colleghi giornalisti puntando su uno degli aspetti trattati nel libro, e cioè il processo di deindustrializzazione che in qualche modo uno dei protagonisti, essendo un top manager di una grande azienda, vive sulla sua pelle e vive soprattutto dall'interno. Un problema che riguarda in generale l'Italia e in particolar modo la città di Napoli da vent'anni a questa parte. Una questione che spesso viene trattata in modo superficiale o ideologico, ma che poi ha segnato il nostro tempo e che è caratterizzato dall'assenza di politiche industriali, in particolar modo nel Sud. Ecco, noi abbiamo approfittato della presenza di Paolo Rubino e di questa sua esperienza, che ha avuto anche un risvolto narrativo in questo caso, per provare a mettere l'accento su questo tema e a sviluppare una riflessione. Se è possibile in qualche modo rilanciare, determinare un riscatto industriale del nostro Paese. Una cosa, insomma, un'esigenza di cui abbiamo assolutamente bisogno e che soltanto formando in maniera adeguata l'opinione pubblica, attraverso evidentemente i giornali e televisioni, tutti quanti i media, può determinare un riscatto, un colpo di regni. Sicuramente una traccia storica, perché richiama anche un pochino la questione meridionale, anche se da lontano, però un tema di grande attualità, Francia e Germania in primo piano. Il Sud è la parte di questo territorio, è Napoli ancora più che altri pezzi del Mezzogiorno, che è stata maggiormente interessata dal declino industriale del nostro Paese. Abbiamo una serie di esempi drammatici in tutta l'area nord di Napoli, così come a Napoli Est, la Fincantieri. Napoli era una città industriale, oggi viceversa non ritrova più tutto quello che erano, il suo patrimonio manifatturiero. Da questo punto di vista Bagnoli è l'esempio più macroscopico, quindi una grande acciaieria che nel bene e nel male aveva caratterizzato la storia di questa città nel dopoguerra, che è stata smantellata e poi tutta un'area, peraltro bellissima ovviamente, lasciata lì così a marcire senza una prospettiva e senza un piano e senza un progetto. Se dovevamo smantellare l'ilva di Bagnoli per lasciarla come lo abbiamo lasciata negli ultimi trent'anni, era meglio continuare a produrre acciaio. Salvatore Sant'Angelo, una presentazione, come dicevamo a microfoni spenti, appassionata, accorata. Partendo da un semplice romanzo abbiamo fatto un escurso su quello che è l'industrializzazione e la deindustrializzazione mondiale. La globalizzazione non è come ce l'hanno raccontata, la globalizzazione è un'arena violenta, selvaggia, dove i territori, le classi dirigenti si confrontano e combattono per assicurare alle proprie popolazioni il benessere e un futuro. Oggi tutti i nodi stanno venendo al pettine, lo misuriamo nella guerra commerciale e nei dazi. Quindi è fondamentale ripetere anche in ogni occasione, anche nella presentazione di un romanzo che poi ha come trama fondamentale appunto il mondo aziendale, il mondo dell'impresa, l'urgenza di dare consapevolezza alla nostra gente, ai nostri popoli e alla classe dirigente che bisogna investire tutte le nostre energie rispetto a questi temi per assicurarci un domani.